Il lavatoio della cucina perde acqua 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 E' morto. E ti ricordo quando ti girò la testa, ti disse basta e finita. E gli facessi anche le corna, ti ricordi? Aspetta, adesso le corna perché ci facessi? Ci facessi perché automaticamente gliela volevi far pagare, però hai fatto delle corna particolari, hai fatto credere che erano delle corna, ma non erano corna appese, erano corne mute. Mi stai capendo? Cioè, volevi far credere che ci avevi fatto le corna, ma erano corne mute. Mi stai capendo? Signora, io tengo delle carte davanti. Mi tengo per maciusciare come fanno all'arte.